Benvenuti, siamo all'interno della casa del popolo di Castelfranco di Sotto, nata nel 1965, stata ristrutturata completamente e accompagneremo nei pranzi di lavoro, nei nostri aperitivi e in tutte le nostre attività. Siamo aperti tutti i giorni, dalle 7 del mattino a mezzanotte, mezzanotte e mezzo circa, chiusi il lunedì. Effettuiamo i nostri pranzi di lavoro dalle ore 12 alle 14 e l'aperitivo dalle 18.30 in più. Grazie ai nostri clienti affezionatissimi e grazie a loro siamo diventati ciò che siamo. Tutti. Vi aspettiamo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.